Buonasera italiani, e allora anche noi altri qua della Unicentro Paranà saremo tutti in Tel Bassan in tei giorni 29 e 30 di novembre per partecipare del 28 incontro nazionale dei diffusori dell'Italian e anche della Olimpiada dell'Italian. E sì, andiamo anche noi altri a partecipare dei giughi, giugno delle bocce, giugno dell'amora e anche delle presentazioni culturali dei nuclei presenziali della cuccagna, scuola dell'Italian e delle oficine, perché gaveremo oficine di estrope, di dressa e ora quante altre possibilità di partecipazione che l'Italian ne presenta. Lora, mi cato che non devo far su il bacan del saver in Tel Bassan. Tutti, anche per mangiare strunfoli in Tel Bassan.